Effetti nocivi della salute delle donne di fumo. Il fumo è dannoso per tutti gli esseri umani, ma ci sono particolari preoccupazioni per le donne che fumano. Oltre alle condizioni sanitarie in cui tutti i fumatori vogliono affrontare, il fumo può aumentare il rischio che le donne sviluppino alcuni tumori del tratto ginecologico, dell'osteoporosi e di altre condizioni. Croniche o pericolose per la vita. Tutti abbiamo sentito gli avvertimenti sul fumo, in particolare che le sigarette può causare il cancro e aumentare il rischio di malattie cardiache, ma le donne fumatori affrontano sfide uniche. Il fatto triste è che circa 23 milioni di donne negli Stati Uniti fumano ancora sigarette. Il fumo è la causa di morte più prevenibile in questo paese. Tuttavia più di 140 mila donne muoiono ogni anno dalle cause causate dal fumo. Il tasso più elevato di fumo avviene tra le donne tra i 25 e i 44. Nonostante tutti gli avvenimenti, gli adolescenti di oggi hanno sentito parlare dei pericoli del fumo. La realtà è che quasi tutti i nuovi fumatori oggi sono adolescenti, più di 1,5 milioni di ragazze e adolescenti fumano sigarette.I fumatori soffrono tutte le conseguenze del fumo che gli uomini fanno, come ad esempio il rischio aumentato di diversi cancri polmone, bocca, laringe, faringe, esofago, rene, pancreas, rene e vescica e malattie respiratorie, ma come donne abbiamo bisogno di una consapevolezza esplicita. Sui numerosi rischi sanitari correlati al fumo, che sono unicamente i nostri. Contraccettive orali e fumo Usi contraccettivi orali o un altro metodo ormonale del controllo delle nascite e fumatori che usano i contraccettivi orali rischiano di gravi conseguenze, tra cui un aumento del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari come coaguli di sangue, attacchi cardiaci e colpi. Questo rischio aumenta con l'età. E le donne sopra i 35 che fumano non dovrebbero usare contraccettivi orali. Storicamente, un lieve aumento della pressione sanguigna si è spesso verificato negli utenti di pillola. Tuttavia, la pressione sanguigna spesso è tornata ai normali livelli di pre-pillola una volta che i contraccettivi orali sono stati interrotti. Nuovi studi indicano che l'alta pressione sanguigna non è un problema comune per gli utenti di pillola di oggi, tuttavia tutte le donne che usano contraccettivi orali dovrebbero avere la pressione sanguigna controllata ogni 6-12 mesi. Gravidanza e fumo Le sostanze chimiche nel tabacco sono passate dalle madri in gravidanza attraverso il flusso sanguigno al feto. Questi prodotti chimici tossici presentano gravi rischi per il bambino non ancora nato e per la madre. Secondo i nostri corpi, noi stessi per il nuovo secolo, dal Boston Women's e Alkbooc. Collettive Smoking durante la gravidanza è associato con la prematuro consegna, il basso peso alla nascita, la rottura prematuro delle membrane, la placenta previa, l'aborto spontaneo e la morte neonatale. I neonati le cui madri fumano durante la gravidanza hanno gli stessi livelli di nicotina nel loro sangue come gli adulti che fumano e passano attraverso il ritiro durante i loro primi giorni di vita. I bambini nati da madri che fumano sperimentano più raffreddori, mal di testa, problemi respiratori e malattie che richiedono visita al pediatra che i bambini nati dai non fumatori. Infertilità e fumo È una parte dei tuoi piani futuri Molte donne oggi ritardano il parto fino a quando non sono nei loro 30 o addirittura 40 anni, che possono causare problemi di fertilità anche per le donne che non fumano. Ma le donne che fumano e ritardano il parto stanno mettendo a un rischio sostanzialmente maggiore di futura. Sterilità rispetto ai non fumatori Il fatto è che i fumatori hanno circa il 72% della fertilità dei non fumatori. Quando tutti gli altri fattori sono uguali, è 3,4. Volte più probabile che i fumatori dovranno concepire più di un anno. Sempre più, studi dimostrano che la diminuizione della risposta ovulatoria, nonché la fecondazione e l'impianto dello zigote possono essere compromesse. Nelle donne che fumano. Le sostanze chimiche in tabacco possono anche alterare il fluido cervicale, rendendo tossico per lo sperma che provoca la gravidanza essere difficile da raggiungere. Non possiamo tuttavia lasciare gli uomini su questo. I fumatori di uomini sono il 50% più probabilità di diventare impotenti. Alcune sostanze chimiche tossiche trovate nelle sigarette possono causare mutazioni igieniche che possono causare aborti spontanei, difetti di nascita, cancro e altri problemi di salute nei loro figli. Malattia infiammatoria pelvica e fumo La malattia infiammatoria pelvica si verifica con il 33% in più di frequenza nei fumatori rispetto ai non fumatori. PID è una malattia dolorosa che richiede un intervento medico immediato ed è spesso un fattore che contribuisce alle gravidanze topiche, nonché alle aderenze pelviche e ad altri problemi di fertilità. La menopausa, la mestruazione e il fumo che iniziano a fumare come adolescente aumenta il rischio di una menopausa precoce di tre donne volte. I fumatori Spesso notano i sintomi della menopausa due o tre anni prima dei non fumatori. I problemi connessi tra sangue anormale, amenorrea e scariche infezioni vaginali sono comuni reclami tra le donne che fumano. Le anomalie della mestruazione e la menopausa precoce possono essere causate da un effetto tossico sulle ovaie o dai livelli significativamente più bassi di estrogeni osservati in molti studi di fumatori. Ormoni e fumo La terapia sostitutiva estrogenica fornisce una protezione benefita alle donne in postmenopausa contro il rischio di osteoporosi. Ma questi benefici sono molte volte negati ed all'aumento dei rischi cardiovascolari e di salute associate al fumo durante l'assunzione di ormoni. Le donne che fumano affrontano un grave rischio aumentato di sviluppare malattie cardiovascolari come attacchi cardiaci e ictus durante l'utilizzo di estrogeni. Questo rischio dovrebbe essere discusso con il proprio medico prima di iniziare la terapia ormonale sostitutiva, se sei un fumatore. Il medico ti aiuterà se si sceglie di smettere di fumare. Osteoporosi e fumo L'osteoporosi colpisce la maggior parte di noi se viviamo abbastanza a lungo. Ma ci sono alcune cose che possiamo fare per ridurre il rischio di osteoporosi come partecipare ad attività fisica regolare e assicurarsi che stiamo ricevendo 1000 mg a 1500 mg di calcio quotidianamente. La sospensione provoca un Aumento significativo del rischio di perdita ossea e osteoporosi. Le donne che fumano, un pacco di sigaretta al giorno, spesso sperimentano una perdita di densità. Ossea pari al 5-10% in più rispetto ai non fumatori finché raggiungono la menopausa. La scansione della densità di densità per determinare la densità della struttura. Ossea è consigliata per tutte le donne inizio all'età di 40 anni. La scansione della densità ossea è particolarmente importante per i fumatori in modo che i cambiamenti possano essere notati e il trattamento può derivare se si nota l'osteoporosi. Malattie cardiache e fumo Circa 34.000 morti nelle donne di malattie cardiache ischemiche sono attribuite al fumo ogni anno. Anche se la maggior parte di queste morti sono in donne. In passato la menopausa, il rischio di malattie cardiache correlate al fumo è significativamente più elevato nelle fumatori di giovani donne. I ricercatori in Danimarca hanno trovato un rischio maggiore di 50% di attacchi cardiaci nelle donne fumatori rispetto ai fumatori. Questa differenza può essere dovuta all'interazione dell'estrogeno con i prodotti chimici trovati nelle sigarette. Cancro cervicale e fumo Tutte le donne dovrebbero avere esami pelvici regolari che includono peste pape e per le donne che fumano la necessità è ancora più grande. Gli studi Dimostrano che il fumo può portare allo sviluppo del cancro cervicale, uno studio ha riscontrato un rischio maggiore di 80% di sviluppare il cancro cervicale. Nei fumatori I pazienti con cancro cervicale che hanno smesso di fumare o che hanno tagliato, per almeno il 75%, possono avere maggiori possibilità di Premissione di sopravvivenza rispetto ai pazienti che continuano a fumare. I tessuti cervicali che si trovano anche nelle sigarette possono indebolire la capacità Delle cellule cervicali di combattere l'infezione possono creare un potenziale terreno di allevamento per le cellule cervicali anormali da moltiplicarsi. Cancro al seno e fumo L'American Cancer Society ha pubblicato i risultati di uno studio del 1994 che ha indicato che i pazienti affetti da cancro al seno che fumano possono Aumentare il rischio di morte per almeno il 25% Un rischio che aumenta con il numero di sigarette affumicata al giorno. L'eventuale rischio di carcinoma Mammario fatale aumenta fino al 75% per le donne che fumano due pacchetti o più al giorno. La buona notizia è che se si chiude ora il rischio potenziale di Morire a seguito di un cancro al seno futuro resta uguale a quello di un non fumatore. Cancro del vulvare e fumo Un altro tipo di cancro che può verificarsi più frequentemente nei fumatori è il cancro del vulvo. I fumatori hanno un rischio maggiore del 40% di Sviluppare questo tipo di tumore ginecologico devastante. Il fumo provoca anche i seguenti problemi di salute per le donne che fumano. Densità ossea diminuita Le donne che hanno attraversato la menopausa e che fumano hanno una densità ossea inferiore. Ciò significa che hanno maggiori probabilità di rompere un Fianco rispetto alle donne che non fumano. Artrite reumatoide Le donne che fumano hanno maggiori probabilità di ottenere l'artrite reumatoide. RA è una malattia cronica infiammatoria. Le persone con RA hanno gonfiore E dolore nelle loro articolazioni. Cataratta Le donne che fumano sono più inclini a ottenere cataratta che influenzano la loro visione. Le cataratta sono una malattia di occhio dove la lente Dell'occhio è nuvoloso o nebbioso. Malattia di gomma Il fumo è legato alla malattia della gomma, che può portare a perdita di ossa e denti. Ulcere Anche i fumatori con malattie gengivali hanno maggiori probabilità di avere ulcere nello stomaco, che possono portare alla morte. Chirurgia I fumatori hanno peggiori tassi di sopravvivenza dopo l'intervento chirurgico. Sono anche più probabili avere complicazioni e più guarigioni della ferita. Rispetto ai non fumatori Depressione È importante che le donne conoscano il legame tra il fumo e la depressione perché le donne sono più probabili degli uomini a essere diagnosticati con la Depressione Problemi mestruali Alcuni studi dimostrano che le donne che fumano hanno periodi più irregolari o dolorosi. Menopausa I fumatori hanno più probabilità che i non fumatori passino alla menopausa in età più giovane e possono avere peggiori sintomi della menopausa. Gravidanza Le donne che fumano possono anche aver più tempo a rimanere incinta. Hanno anche maggiori probabilità di perdere il loro bambino prima che sia nato. Gli studi dimostrano che c'è un rischio aumentato di SIDS nei bambini nati da fumatori. Respirazione Le ragazze adolescenti che fumano hanno polmoni che non crescono come i polmoni dei non fumatori, e le donne adulte che fumano hanno polmoni che non Funzionano i polmoni non fumatori. Secondo il chirurgo generale, il fumo uccide ogni anno oltre 400.000 persone in America. In tutto il mondo, le morti legate al fumo sono destinate a raggiungere oltre un milione persone nel 2015. Molte di queste morti saranno donne. Oltre l'80% dei tumori polmonari nelle donne è causato direttamente dal fumo e molti altri sono dovuti all'esposizione al fumo di seconda mano. La malattia cardiaca, il numero su assassino delle donne, è anche fortemente legata al fumo. Ulteriori malattie polmonari, tumori, ictus e bicoemfisema sono anche causati da prodotti del tabacco da fumo. Grazie a tutti.